Vincitore della classifica Six Max Player of the Year, runner up, seconda posizione nel torneo giornalisti, finalmente è arrivato il braccialetto tanto atteso nel campionato italiano over 50, Dario Tetoffoli. Come stai? Sto benissimo, mi trovo benissimo in questo circuito e mi ha fatto tornare la voglia di giocare a poker. Bravo, hai detto una cosa giusta, noi cerchiamo di mantenere un ambiente familiare e cerchiamo anche di affezionare i nostri clienti. Effettivamente mi ha sorpreso, mi è piaciuto molto l'ambiente perché qui il poker è ancora un gioco e non un lavoro forzato. Questa è una cosa bellissima che ci dici. Dario farai qualche altro torneo domani, dopo domani o ti fermi qui? Fino a lunedì farò tutto quello che posso, non so cosa c'è domani ma ci provo ancora. Bene, bene, domani ci sono ancora altri eventi in gioco, forse il ladies non lo puoi fare. Il ladies no, rinuncio. Ascolta, parliamo velocemente di questo torneo over 50 che comunque ha visto un field agguerrito, anche qui bei numeri, sei arrivato al tavolo finale, in che modo? Dunque, intanto per cominciare sono stato uno dei primissimi eliminati, ho dovuto riscrivermi. Ma bisogna fare così, bisogna sempre crederci. E poi via via è stato un crescendo, nel tavolo finale poi in un certo momento mi sono giocato tutto. È andata. Ho vinto un flip e quindi poi mi sentivo bello carico. Abbiamo giocato per il braccialetto e ci tenevo a vincerlo, ho cercato di fare il mio meglio. Benissimo, allora ancora complimenti a Dario, ho in bocca al lupo per i tornei di domani e di dopodomani e buonanotte. È stato un piacere anche se sono le 5 di mattina. Ciao. Grazie a tutti.